da più o meno un annetto abbiamo io e mia sorella aperto questo locale cerchiamo di dare un 360 gradi di esperienza per quando riguarda al beverage e la cicchetteria nel 2012 ho attraversato l'atlantico come marinaio un'esperienza che mi ha aperto gli occhi su quello che è la vastità del mondo all'interno dei drink che faccio c'è sempre un qualcosa che ho visto in giro per il mondo voler portare un po di mare in cadore è stato per me anche un obiettivo mi piacerebbe che la gente percepisse questa spontaneità che è tipica della vita in mare vivere momento per momento non fissarsi su determinate cose ma cambiare grazie a tutti